Oh sì, sento il dolore. Salve. Oh ehi, non l'avevo vista. Questa è mia figlia, deve allenarla, ok? Ok. Salve, quindi beh, che faccio? Che giornataccia, adesso voglio solo riposarmi. Mi è venuta una sete. Oh grazie. Troppo caldo, portalo via. Mi sento così tesa. Bisogna fare stretching prima di allenarsi. Devi essere flessibile. Non è poi così difficile. Per te forse. In questo modo mi verranno gli addominali? Certo. E se non fosse così, tua madre potrebbe comprarteli. La mamma mi ha detto che mi avrebbe comprato il pony. Te lo sei guadagnato? Oh sì, mi è venuta fame. Dopo dovremo parlare anche della tua dieta. Quanto mi piace avere le unghie sempre ben curate. E ora devo vedere come sta la mia principessa. È andata benissimo. Sì, certo, meglio chiamare un'ambulanza. Grazie per tutto il tuo duro lavoro. Te lo sei guadagnato. Sul serio? Andiamo, cara. Quel pony non si compra da solo. Tornate quando volete. Non ho vinto alla lotteria questa settimana. È già l'ora. Sì, sono così emozionata. Li vedi? Ok, sei pronta? Uno, due, tre. Sì, tocca a me. Bene. Gomiti in fuori. E ora a sinistra, destra. Ehi, ha cambiato. Allunga bene le braccia. Gomito al ginocchio e continua. Gomito al ginocchio. Gomito al ginocchio. Ok, tocca a me. Scambiamoci. Mi serviva fare una pausa. E squat. Piega e sali. Stanno facendo gli squat ora. Veramente, io odio gli squat. Toccate quel dito. Voglio vedere tutto lo sforzo. Veloce, mamma. Toccati le dita dei piedi. E adesso ispirate. Ottimo lavoro, ragazzi. Già finito. Tutto finito. Di già, meno male che non abbiamo pagato. Mettiamo i muscoli. Quanto mi piace contare i soldi. Aspetta, ma fa più freddo qui dentro. Il fuoco non mi sta riscaldando. Sì, lo so. Il fuoco ha bisogno di un po' più di carburante. Questo porta a te a aiutare. Molto meglio. Fa così freddo. Non riesco a sentirmi le dita dei piedi. Wow, guarda. Mi sento già più calda. Oh, beh. Non è durato molto a lungo. Devo fare qualcosa. Se la colpisco funziona. No, ci ho provato. Fantastico. Sto diventando un cubetto di ghiaccio. Deve esserci qualcosa che posso fare. Ma certo. Una piccola martellata qui. Ce l'ho fatta. Mi sto scongelando. Che cosa hai fatto? Ho solo riparato la tv. Che ne pensi? Wow, la adoro. Sei incredibile. Smettila. Mi fai arrossire. Oh, fa caldo. Un altro regalo. Sì, Babbo Natale. Sono così felice che tu sia qui. Voglio un altro pony e uno stagliere. Io adesso vado. Notte impegnativa. Ah? Fermati un attimo, Babbo Natale. Ho idea di quanti regali devo consegnare. Hai sentito, la signorina. Meglio prendere appunti. Altrimenti... Allora, come dicevo. Un pony, uno stagliere, una macchina, un telefono. Un maggiordomo. E mi serve una barca. Papà non mi dà la sua. Un cucciolo, altri diamanti. Altri diamanti? E penso sia tutto. È tutto? Sei sicura di non esserti persa nulla? Devo andare. Non così in fretta. Ma dai! Anch'io ho una lista. Non è lunga. Vorrei un nuovo paio di occhiali da sole. È tutto? Basta. Il prossimo Natale vado in ferie. Questa è l'ultima casa. Che nottata. Babbo Natale ha bisogno di allenarsi di più. Oh, ciao, biscotti e latte, i miei preferiti. Sembra delizioso. Oh, il mio dente. Questo non lo mangio. Almeno c'è del latte. Il mio lavoro mette sete. Oh, non è molto buono. Oh, il mio stomaco. Non va affatto bene. Oh, oh, Babbo Natale, devi andare in bagno. Che sonno. Ehi, Babbo Natale è stato qui. Cos'è tutto questo casino? Guarda, dei regali. Vediamo che cosa abbiamo. Wow, ce ne sono tanti. Il miglior Natale di sempre. Oh, guarda come si divertono in vacanza. Non è giusto. Voglio fare anch'io una vacanza. O almeno voglio far credere che sia così. Oh, sono così gelosa. Aspetta, ho un'idea. Ok, ho questo coperchio di una pentola. Devo usare questo cacciavite per togliere il pomello. Fatto. Sembra a posto. Ok, ora per il prossimo passaggio. Lo schermo della TV è perfetto per fare da sfondo. E ora devo solo fare qualche selfie. Ok, vediamo come sono venute. Oh, si stanno tutti divertendo così tanto. C'è una foto di Julie. Oh, tesoro, vieni qui. Che cosa c'è? Hai usato il coperchio di una pentola come finestra? Ascolta, sono la tua mamma adottiva. Ti aiuterò io. Bene, allora sei pronta per andare nello spazio? Sul serio? Ma dai, sei la migliore. Wow, sono in un vero razzo che sta andando nello spazio. Wow, ma che vista. Ehi, ma cosa succede alla mia atta? Oh, giusto, il problema della gravità. Ma niente. Questi fuochi d'artificio sono piuttosto fighi. Oh, aspetta, ma che figo. Fammi provare a fare qualcosa. Metterò questo sul tavolo e ci metterò sopra il bicchiere. Straordinario e troppo bello così. È come se avessi un posto in prima fila. Oh, questo è il mio preferito. Oh mio Dio, mi hai spaventata. Scusami, ma devi venire con me. Ok, sei pronta per un vero spettacolo pirotecnico? Sì, siamo pronti in attesa. Spettacolo! Questo è tutto. Pensavo ce ne sarebbero stati di più. Oh, aspetta un attimo, sistemo io la cosa. Sì, per favore, falli partire tutti. Sei pronta? Arrivano! I migliori fuochi d'artificio di sempre! E sei anche la mia migliore mamma adottiva di sempre. Sei così dolce. Senti, ti ho fatto un regalo. Non sono belle le colombe? Hai ragione, sono bellissime. Sì, ti hanno sporcata tutta. Aiuto, che schifo! Sono tornata dal parrucchiere e adoro questo nuovo taglio. Ma cosa? Ci sono segni di sporco ovunque. Vanno lì. Oh no, il bagno! Ehi! Sono ovunque. Sì, c'è qualcosa dietro alla tenda della doccia. Non spaventarti. Ti ho presa. Oh, ciao mamma. Oh, che disastro! Guardati! Barretti di cioccolata. Io pensavo fosse... Dammi la cioccolata. Ma è mia. Dammi qui. Non è giusto. Hai mangiato tutta questa cioccolata. Lo so. Metti la cioccolata in una ciotola. Falla a sciogliere. Indingi un cucchiaio. E poi delle codette. Un gelato di cioccolata sul cucchiaio. Ho un regalo per te. Oh, wow! Tieni. Tutte per me. Gnam, grazie mamma. Prego, tesoro. E ora devo sistemare questo casino. E ora devo far 69 da. Facebook. Per me. Per me. E ora devo fare ma persönlich. Per me. Ben. Andare. E ora. E ora. Grazie a tutti.